Ragazzi, alla fine i puro sangue si richiamano, ci siamo uniti, ci siamo scannati un po' il Rocco e stiamo rientrando a casa, il puro sangue è sangue. Gli altri sono? Gli altri sono dei puledrini, sono dei puledrini ancora di primo latte, togliendo qualcuno. Comunque ragazzi, Rocco ci siamo incontrati qua... ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.